ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di investire consapevole oggi vorrei parlarvi dell'italia e in particolare del governo draghi cerchiamo di fare il punto della situazione per capire esattamente come stanno le cose al momento e per tirare fuori una strategia eventualmente per poter investire nei mercati finanziari ma prima di iniziare io vi ricordo che non ho nessuna sponsorizzazione e l'unica sponsorizzazione possibile per me è sponsorizzare me stesso quindi lasciate un bel like a questo video per aiutarmi con l'algoritmo di youtube a far crescere la cultura finanziaria in italia iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti ma non perdiamoci immediatamente in chiacchiere e iniziamo a capire di che cosa stiamo parlando allora ragazzi mario draghi è stato incaricato dal presidente sergio mattarella di formare un nuovo governo per l'italia e sta preparando la fase 2 gelando i partiti sul recovery fund cerchiamo di capire che cosa succede non ha parlato molto per la verità mario draghi infatti nei primi due giorni che sono stati dedicati alle consultazioni con i partiti il premier ha preferito ascoltare quello che i partiti avevano da dire ha detto infatti a tutte le delegazioni presenti delle forze politiche che ha incontrato che avrebbe ascoltato le loro proposte ha preso appunti parecchi appunti infatti e ha assicurato che il suo impegno è un impegno votato a confrontarsi e a costituire un governo politico il primo giro di consultazioni termina infatti sabato oggi con lega e movimento 5 stelle subito dopo draghi rifletterà lunedì incontrerà le parti sociali mentre martedì darà avvio a un breve secondo giro di confronti in cui comincerà a mettere l'agenda nero su bianco per ora si è limitato a ribadire le emergenze del paese e assicurato che punta a lavorare sodo anche se avrebbe precisato ulteriormente la ripresa sarà lenta e infatti il debito che l'italia attualmente accumulato è molto importante quindi non ci si può di certo aspettare che per magia sparisca c'è molto da fare insomma per usare al meglio il recovery plan con l'obiettivo di dare all'italia più opportunità e meno assistenzialismo oggi toccherà a beppe grillo che fino a pochi anni fa sul suo blog criticava l'allora presidente della bce era il 2017 e il post firmato da elio lannutti oggi senatore del movimento 5 stelle e a quel tempo presidente dell'adusbef era intitolato comanda il popolo non draghi nel mirino c'erano lo strozzinaggio europeo e il dominio delle banche sono cambiati i tempi non c'è dubbio e anche i 5 stelle si preparano a sostenere l'esecutivo guidato da draghi non c'è scelta nonostante le perplessità di una parte del movimento anche se resta l'idea di far esprimere gli scritti chissà se anche grillo questa mattina avrà la stessa impressione di quelli che hanno incontrato ieri draghi pur non avendo mostrato grande confidenza tutti lo hanno descritto come una persona umile e con i piedi per terra consapevole delle difficoltà della vita di tutti i giorni ecco poi emergere la visione la strategia del next dell'ex numero uno di banca italia secondo cui stando almeno a quanto raccontato da chi lo ha visto in questi giorni non occorre perdere l'occasione del momento storico che viviamo per arrivare preferibilmente ad un bilancio comune europeo sempre a proposito dell'ue nell'unione europea il premier incaricato non ha mancato di sottolineare come le risorse del recovery plan non debbano essere in alcun modo considerate come soldi da utilizzare a fondo perduto ma debbano semmai essere investite per creare finalmente dei posti di lavoro l'occupazione insomma è uno dei temi al centro della futura agenda politico programmatica di draghi tra le sue preoccupazioni inoltre secondo quanto quanto narrato da chi ha potuto interroguire con lui c'è sempre quella di rispondere ad un malessere sociale sempre più crescente per sante e la necessità di incrementare il piano vaccinazioni per contrastare il covid 19 contenendo in questo modo la crisi sanitaria ed economica per il momento draghi non avrebbe parlato di possibili approdi politici di coalizioni di future maggioranze parlamentari concentrandosi piuttosto sui contenuti sugli argomenti concreti alla fine della giornata il premier incaricato ha incassato il sostegno di forza italia e di italia viva sorridente soprattutto matteo renzi che ha parlato di una ventata di credibilità e fiducia nel paese definendo draghi una polizza assicurativa per i nostri figli e nipoti quanto al pd il segretario nicola zingaretti garantisce piena disponibilità a mario draghi smarcandosi però dalla lega e chiedendo una maggioranza ampia ma quanto più possibile omogenea infatti questo rappresenterebbe l'assolvimento del mandato conferito alla bce dal trattato ue per il mantenimento della stabilità dei prezzi l'unica missione che ha appunto la bce vi ricordo che la bce è fondata per mantenere la stabilità dei prezzi in unione europea insomma pur con oggettivi limiti e dunque condividendo l'esigenza di aderire a necessarie mediazioni bisogna augurarsi al punto in cui siamo arrivati che l'opera di draghi abbia successo ma senza pensare di superare tutte le difficoltà solo perché si sarebbe nelle mani di un taumaturgo se così ci si dovesse illudere la durezza dei fatti provvederà a una rapida disillusione ragazzi io vi ho indicato qui due dati molto importanti parliamo del valore raggiunto dal fuzzimib infatti in questa settimana alla chiusura di venerdì sono stati superati i 23 mila punti e lo spread btp bund è sceso a quota 92 punti intorno quindi a quota 90 punti questi sono stati gli effetti del solo avere la possibilità di avere mario draghi come presidente del consiglio ovviamente questo potrebbe sicuramente avere dei risvolti molto importanti per gli investimenti italiani ed europei in genere infatti compito di mario draghi sarebbe non solo quello di portarci fuori dalla crisi spendendo correttamente i soldi del recovery plan ma sarebbe anche quello di accelerare il processo europeo volto al raggiungimento di un bilancio comune di tutta l'unione europea ovviamente ci saranno tanti passaggi da da fare per raggiungere questo obiettivo però per quello che abbiamo potuto vedere in questi primi giorni di di mandato esplorativo conferito a draghi i valori sia della borsa che dello spread sono ritornati a valori molto interessanti per quanto riguarda lo spread considerate che c'è stato già in questi pochi giorni un risparmio di oltre un miliardo di euro di interessi per quanto riguarda l'italia interessi sul debito pubblico però detto questo io comunque vi esorto a fare sempre le vostre verifiche prima di investire perché è fondamentale essere consapevoli dei dati prima di prima di mettere i nostri soldi da qualche parte non fin non vi fidate di nessuno ciecamente sulla parola nemmeno di me o di altri youtuber che sicuramente sono più esperti fate andate sempre a verificare in prima persona quelle che sono le reali condizioni e i reali dati prima di investire i vostri soldi io vi esorto a commentare questo video se volete per aiutarmi con l'algoritmo di youtube attivate la campanella iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e cercate di darmi tutto il supporto possibile io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti e buoni investimenti